C'è tanto Veneto e ben due talenti vicentini pronti a sfidarsi per le finali di Pizza Beat Competition e Pastri Beat Competition, i due concorsi più importanti in Italia rispettivamente per il settore della pizzeria e della pasticceria nazionale organizzati dal Molino della Giovanna. L'appuntamento è per sabato 9 settembre nella spede dell'azienda di Gragnano Trebbiense in provincia di Piacenza dove in occasione della festa dei Granai i nove finalisti del Pizza Beat Competition e i nove finalisti del Pastri Beat Competition si sfideranno a colpi di pizza e panettoni d'autore per decretare i nuovi ambassador dell'azienda. Molitoria leader in Italia per il comparto delle farine. Pizza Beat Competition quest'anno è la seconda edizione e la gara che Molino della Giovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti. In palio il titolo di della Giovanna Pizza Ambassador 2024, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo. Per il Vicentino si sfideranno Michele Colpo della premiata fabbrica pizza di Bassano del Grappa e per l'ambito Pastri Gianluca Bolzani della pasticceria Bolzani di Vicenza.